In questa recensione parleremo della carta prepagata SisalPay. Emessa da Wirecard Card Solution e dotata di circuito Mastercard, offre tanti vantaggi con zero costi di emissione e canone annuo di soliti 5€. Con questa recensione passeremo in rassegna le caratteristiche, i vantaggi e i costi della carta SisalPay. La carta SisalPay è una prepagata dotata di IBAN in grado di offrire funzionalità aggiuntive senza dover disporre di un conto corrente tradizionale. Tra queste, l'accredito dello stipendio, la possibilità di ricevere bonifici in entrata, effettuare pagamenti e prelievi in contanti in tutto il mondo a tariffe vantaggiose. Il circuito Mastercard offre sicurezza delle transazioni, anche online, e la garanzia che sia accettata ovunque. Come tutte le moderne carte, dispone di tecnologia contactless per pagare nei negozi fisici con POS senza digitare il PIN, per pagamenti inferiori a 25€. Come richiederla presso i punti SisalPay? Per richiedere la carta prepagata SisalPay è necessario avere i seguenti requisiti. Essere maggiorenni, non può essere richiesta a minorenni nemmeno se accompagnati dai genitori. Avere la residenza e domicilio sul territorio italiano, non importa la nazionalità del richiedente se rispetta i requisiti di residenza e domicilio. Disporre di uno smartphone con numero di telefonia mobile italiano. Presentare codice fiscale e documento di identità, per cui passaporto, patente di guida, carta di identità, con scadenza di almeno 3 mesi dalla data di richiesta della carta SisalPay. Pagamenti e prelievi in Italia e all'estero La carta SisalPay può essere utilizzata sia in Italia che all'estero per pagamenti e prelievi. Vediamo quali sono i costi di utilizzo, in particolare per prelievi o transazioni in valuta estera diverse dall'euro. Pagamenti in euro sia in Italia che all'estero, gratis, nessuna commissione. Preglievi in contanti in euro presso ATM Bancomat in Italia, 1 euro per operazione. Pagamento in valuta estera diversa dall'euro. Commissione di 1,10% sul valore della transazione, con tasso di cambio e valuta Mastercard. Preglievi di contanti in euro presso ATM Bancomat all'estero, 2 euro. Preglievo di contanti in valuta estera diversa dall'euro, 5 euro, costo fisso, più 1,10% sul valore del prelievo, con tasso di cambio e valuta Mastercard. Vi ringraziamo per aver visto questo video e vi ricordiamo che nel nostro canale YouTube troverete tantissimi video sulle carte prepagate e le carte di credito disponibili in Italia al momento. Ci vediamo al prossimo!